ciao ben ritrovati a tutti siete pronti per la quinta bandierina e questa volta fiocchi di neve con il pearl green ho spruzzato il tessuto di verde poi ho disegnato con un pennarello molto leggermente questa prima parte del fiocco voglio fare un fiocco di neve quindi ho usato il pennarello e mi sono ho cominciato a disegnare queste linee quindi sono partita prima da un incrocio e poi una linea retta dopodiché ho disegnato la parte che vedete fatta in questo modo come questo vedete in questo modo e con la macchina da cucire in free motion quindi senza il trasporto e il punto ma tutto con la macchina libera ho iniziato a ricamare parto da un punto vediamo se riesco a stare ferma parto da questo punto vediamo se riesco a stare ferma parto da un punto maggiore sono in free motion quindi vuol dire senza il trasporto della macchina ok quindi le griffe della macchina non ci sono il punto è a zero il punto della macchina è a zero il punto della macchina è a zero vedete il mio punto è questo così è a zero lavoro sempre senza punto e mi muovo senza mai staccare ok sono arrivata qua ho continuato a lavorare sempre in free motion quindi senza il trasporto e senza il punto ma semplicemente guidando io la il movimento quindi piede e ago poi sempre con questo sistema ho creato altri piccoli fiocchi di neve per me questo è un fiocco di neve mi piaceva questa idea di creare qualche cosa di un pochino diverso e mi sono divertita a lavorare proprio con questo sistema quindi tutto quello che vedete qua è fatto in free motion poi con un pennarello ho creato questi piccoli cerchietti dando più luce a tutto il lavoro anche qua ho fatto con lo stesso sistema con il pennarellino ho lavorato creando questi cerchietti quindi quelli invece li ho lasciati liberi adesso ne faccio ancora qualcuno e poi la mia bandierina è finita campanello cucito passiamo con il distress tutto intorno i bordi per dare questa così questo invecchiamento che sta benissimo e la quinta bandierina è pronta questa bandierina è veramente deliziosa tutto sommato è facile da fare se non riuscite a farla con la cucitura in free motion quindi cucitura libera a macchina la potete ricamare a mano oppure se non siete in grado di farlo perché o non vi piace potete usare i pennarelli e divertirvi con i pennarelli per il tessuto che oppure anche gli altri perché tanto non vanno lavate quindi non c'è problema bene alla prossima ciao ciao